Stanchi della solita insalata? Ecco un'idea per un pranzo leggero. Partiamo dalla nostra base, ovvero una semplice piadina. La mettiamo dentro una teglia alta e la spennelliamo con l'olio. Poi in forno per 10 minuti. Adesso tagliamo in fettine un'arancia. Dovremmo togliere tutta la parte bianca. Poi tagliamo le olive. E la stessa cosa con il finocchio. Mi raccomando, molto sottile. Poi due giorni fa ho preparato queste cipolle rosse che ho lasciato a macerare in acqua e aceto, stesse quantità. Un cucchiaio di zucchero e un cucchiaino di sale. E adesso prepariamo il condimento. 3 cucchiaino di olio 1 cucchiaino di senape 1 cucchiaino di limone Sale E infine pepe Mescoliamo e siamo pronti. E adesso uniamo finocchi, arance, olive, cipolle Semi misti, lo sapete che li metto ovunque E il nostro condimento. Una volta che la piadina è fredda, io la metto dentro ad una tazza. Aggiungo l'insalata Ed eccoci pronti per l'assaggio. Assaggiamo.